Mi raccomando Anna, studia per la prossima settimana perché ti interrogarò. Tanto ormai che sia un 3-4 non cambia niente, l'avrò bocciata comunque. Considerando che siamo alla fine dell'anno, qui dobbiamo darci un po' una regolata. Tanto sono bocciati. Cosa vogliamo fare? La situazione è abbastanza grave. Ma sì, prof, recupererò. Io mi sa che mollo. Io tramite il raggiunto indirizzo. Dipende tutto da voi. Noi ci mettiamo il nostro, ma il grosso lo fate voi. Ragazzi, ho sentito che state un po' rischiando quest'anno. Ci terrei a condividervi una nuova canzone che ho scritto che ha un significato che secondo me in questo periodo può aiutarvi. Sono fiducioso che ce la potete fare, ok? Dentro di te sai esattamente dove andare. Dovresti rimanere concentrata, ce la puoi fare. Non ti puoi sottrare ad impegno, determinazione, costanza. Sono fondamentali per raggiungere l'obiettivo. Quando noi cominciamo a muoverci nella direzione che vogliamo percorrere, accadono delle cose veramente magiche. Tu vali, tu vali, tu vali, tu vali, tu vali, tu sogna e apri le ali. Tu vali, tu vali, tu vali, tu vali, tu vali, tu sogna e apri le ali. Ma ti hai studiato per oggi? No, cosa c'era? Il logaritmo. Dove... 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 Grazie a tutti